Il padrone di casa e i nostri amici biker hanno anche... Vi invito, allora abbiamo la presenza del sindaco, Cavoduro, sindaco di Sossano, Flavio Cavoduro, l'assessore allo sport, Raffaele Eruaro, è arrivato il momento dello start di questa quinta junior via, si va! Buona gara a tutti, allora dicevo, categoria di... Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!